Arriva a Bari in esclusiva per Big Geek la mostra di Milo Manara, le stanze del Desiderio, inaugurata questa mattina nella Sala Miorà e aperta fino a 4 luglio. Un viaggio alla scoperta dell'intera produzione artistica dell'autore di fumetti italiano più famoso al mondo. Le stanze del Desiderio è inserita nel fitto programma della quarta edizione di Big Geek, di cui Manara sarà ospite. Oltre 1600 metri quadrati di esposizione per l'evento in programma al Palaflorio di Bari sabato 27 e domenica 28 giugno. Dopo il successo di pubblico dello scorso anno con oltre 12.000 visitatori in soli due giorni, quest'anno per la quarta edizione Big Geek offre ai suoi visitatori uno spazio più ampio con workshop, incontri, tornei ed esposizioni di fumetti, giochi, youtube, videogame, tecnologia e cultura geek. Un grande spazio tematico con stand, palchi ed esibizioni in cui conoscere i più importanti disegnatori, youtuber e cosplayer, ma soprattutto in cui poter giocare e divertirsi. In attesa di questo evento Big Geek offre una ghiotta anticipazione con la mostra di Milo Manara. Alla presentazione nella sala a Miorà hanno partecipato l'assessore comunale alle culture Silvio Maselli, la presidente del primo municipio Micaela Paparella, Rosanna Pucciarelli, docente di anatomia, illustrazione scientifica e morfologica all'Accademia delle Belle Arti di Bari e il presidente di Big Geek Francesco Monterisi. La prima volta il maestro Manara viene esposto a Bari e tra l'altro felicissimo di questo e sarà con noi il 27-28 di giugno qui a Bari durante il Big Geek, che è il nostro festival del fumetto, del gioco, dei videogiochi e della cultura geek in generale. La mostra è realizzata da Big Geek con il patrocinio dell'assessorato alle culture del comune di Bari e il sostegno di Elisabeth Arden e Profumeria Pepe, main sponsor dell'evento.